Da un po' di tempo si registrano giorni di felicità per i cittadini di Isernia perché dopo un lungo periodo di chiusura il cinema è tornato in attività grazie agli sforzi personali e imprenditoriali dei nuovi gestori, un gruppo di giovani volenterosi che alternano nei locali anche il teatro, la loro passione principale. Un capoluogo di provincia senza cinema era un paradosso davvero sconcertante perché tanti cittadini affezionati al grande schermo erano costretti loro malgrado a recarsi altrove a Campobasso o Cassino per vedere un film di prima visione, bene ha fatto l'amministrazione comunale a dare in gestione il cinema all'unica associazione che ha risposto al bando. Se è così restituito la città un bene di inconfutabile valore che a tempo di record ha cambiato anche denominazione non più otto e mezzo ma proscenio. Ora tutta la città guarda con interesse alla nuova gestione che si spera possa offrire al più presto film di prima visione evitando agli serniani di recarsi altrove. I nuovi gestori sono giovani amanti del teatro che sapranno alternare la loro passione con la proiezione nei giorni di fine settimana di film di prima visione. Il venerdì, sabato e domenica sono i giorni migliori per recarsi nella sala cinematografica a vedere un film così come ha sempre fatto la precedente gestione offrendo film molto interessanti. Negli altri giorni si potrà programmare qualche serata di teatro che è sempre ben accetta. Si avvicina il periodo natalizio e i cittadini di Isernia si auspicano di potersi recare in gran numero al cinema a vedere film di prima visione, siano essi cine panettoni che film di azione. Sarebbe un sacco bello dopo anni di chiusura rivedere il volto sorridente delle persone all'uscita della sala dopo aver visionato un film tanto atteso. L'augurio è che i nuovi gestori del proscenio al più presto programmino la stagione invernale anticipando con un programma dettagliato i film in visione settimana per settimana. La città non aspetta altro.